ciao allora questo video è un video per dire una cosa molto semplice positività cose belle condividere ogni giorno oppure focalizzarti ogni giorno su quello che è andato bene su quello che ti ha creato una forte emozione su quello che ti ha fatto star bene c'è sempre qualcosa in qualsiasi giornata puoi essere ad esempio stanco e vai a dormire presto lì hai fatto un'ottima cosa ti sei preso cura di te ti sei dato quel momento in più per ricaricare le batterie può essere veramente qualsiasi cosa però dobbiamo ognuno di noi andare verso il positivo andare verso quell'esperienza che hai fatto che ti è piaciuta molto quell'esperienza che ti ha portato una nuova risposta una nuova emozione andare veramente sempre nel positivo io ho voglia di vedere molte persone che parlano di cose positive soprattutto nei social soprattutto in facebook oppure anche su youtube l'idea è quella di trovare sempre il punto positivo in ogni situazione ad ogni giornata trovo che c'è sempre qualcosa di positivo per ognuno di noi c'è sempre un gesto nei confronti dell'altro che abbiamo potuto fare in una giornata abbiamo potuto aiutare una persona attraversare la strada abbiamo pulito la nostra casa abbiamo ricciuto quella telefonata o l'abbiamo fatta è imperativo veramente cambiare cambiare perché così portiamo energia alta energia positiva e contaminiamo finalmente di amore chi ci sta vicino prendersi quel tempo per fermarsi e per sentire la vita scorrere dentro di noi per sentirci grati di essere qui in questo momento ad osservare questo video ad esempio perché qualcuno ha voluto aprirsi ha voluto portarti una parola buona ha voluto iniettarti una fiducia iniettarti qualcosa che ti può trasformare in positivo questo video è molto forte è un video molto positivo è un video che vuole essere un esempio lo vedi quello lì è un canestro allora ognuno di noi ogni giorno si alza una cinquantina di palloni certo non entreranno tutti in quel canestro ma di sicuro ogni giorno fai canestro almeno una volta prova 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 davvero a fare canestro vedrai che a furia di allenarti e fare canestro ne farai sempre di più allora se oggi hai trovato una cosa positiva nella tua giornata allenati a trovarne altre domani e piano piano vedrai che il positivo sarà sempre più grande del negativo viceversa se tu invece tiramenti sempre di situazioni negative ogni giorno sarà sempre più negativa la tua giornata è logico e congruente e semplice allora haug un abbraccio una buona serata un vento di sana follia per portarti dove vuoi perché alla fine dove c'è una volontà c'è una strada e la strada della volontà porta sempre a grandi ricompense io ti saluto ti invito a mettere mi piace al video così sono contento ancora di più pure io e ci vediamo presto una volta ci vediamo davvero buona vita buon respiro buona pace e buon buon tutto buon tutto Grazie.